Con l'avvio dello scavo della prima delle tre gallerie dell'Avicirpina oggi si è compiuto un altro importante passo avanti nella realizzazione del ritirale Napoli-Bari. Infatti oggi alle 10.30 circa è partito lo scavo della galleria Grotta Minarda, una galleria lunga due chilometri il cui scavo sarà completato entro un semestre. Dopodiché si passerà alle ulteriori gallerie già a partire da fine anno partirà una seconda talpa su otto totali che sono state destinate alla Napoli-Bari. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.